La Sacra Scrittura La Sacra Scrittura Il Sunto Voi fate un lavoro, voi come Sosco, per protezione civile, ma con l'amicizia e la cuginanza che ci lega a Castelnuovo a voi, quotidianamente supportate dei disagi delle persone. Speriamo sempre, come diceva Don Flavio, che vi sentiamo poco urlar per le strade, però purtroppo ogni tanto la serena la sentiamo, come abbiamo sentito col terremoto tutte le vicende che hanno coinvolto le nostre protezioni civili. E' una nostra fortuna, è la fortuna del nostro territorio, di questo noi vi siamo grati. Grazie.